Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale. Oggi facciamo una puntata leggermente diversa, siamo al rifugio Carre Alto a 2450 metri con un gruppo di amici che vi presenterò nel corso della salita abbiamo deciso di andare a fare la cresta est appunto che arriva in cima ai Carre Alto. Abbiamo la possibilità di caricare i bagagli sulla teleferica Per arrivare al rifugio ci sono 1200 metri già subito abbastanza impegnativi domani mattina partiremo molto presto per affrontare questa bellissima cresta esatto, però è una macchina fotografica. Primo intoppo ragazzi Mi sono dimenticato la corda Giù Però per fortuna siamo in 6 Adesso facciamo una piccola presentazione A partire da destra Manuel Eso Non è cosito normalmente lui Matteo Formenti Andrea Milani E' il migliore Che dai pelo lungo E' il migliore E' il migliore E' il migliore Voglio dire due cose Quetta Dobbiamo oggi salire per andare a fare una nuova esperienza Salire salire Quina monta Everiest Everiest Provare, provare Provare, provare Provare Una nuova esperienza Passo del cannone Passo del cannone L'altra parte Che non è esattita C'è un'altra Abbiamo appena iniziato La salita Sugli acciaio Abbiamo appena iniziato Abbiamo appena iniziato Abbiamo appena iniziato La salita Sugli acciaio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.